Quando cadi da cavallo devi subito tornare in groppa e riprendere a cavalcare. Altrimenti la paura prenderà il sopravvento e diventerà sempre più difficile, diceva sempre Babbo. Dai, ti giuro che lo faccio uno di questi giorni, va bene? Ehi cowboy! Mi sa che stanotte vi siete persi un cavallo. Babbo, qual è l'esercizio più difficile? Non ti viene mai la voglia di prendere e partire? E per andare dove? Non lo so, anche solo partire, magari possiamo fare il giro del mondo. Questa sarà la camera da letto. Questa è la ragazza. Torno giusta. Stefano, Stefano! Allora passo a prenderti domattina. Tranquillo, conosco la strada. Prima di morire, con una vecchia cavezza Babbo, realizzò un bracciale per mio fratello. Stefano, so che sei lì dentro. Apri. Forse sperava che l'avrebbe aiutato a mettere la testa a posto. Perché ce l'ho io. Questa è la nostra storia. Guardia di fenomeno, è比如 il corporiero. Questa è la mia. La mia bollabia è la mia. Questa è la sua storia. Questa è la sua, la si fid confira. Presto la parella. E la sua. Questa è la mia. Questa è la mia. Grazie a tutti.